sport come maestro di vita ma anche sport e come maestro di rispetto nei confronti dell'avversario sport e anche come eccellente metodo di inclusione lo dimostra lorenzo puliga eccellente cestista che milita nella formazione oristanese della ipd oristano è convocato anche per i prossimi impegni della nazionale di basket che però si presenta a campionati regionali fis dir di nuoto e subito si aggiudica la medaglia di bronzo nel 50 stile libero in questo caso anche noi nel nuoto non c'è solo lorenzo logicamente ma ci sono anche altri ragazzi cerchiamo di ragionare su quell'obiettivo che è quello di fare una prestazione sportiva ma allo stesso tempo dare il segno che bisogna raggiungere quel limite bisogna superarlo bisogna capire dove si può arrivare e nel discorso sportivo come nel basket visto che arriviamo soprattutto da lì da lì anche nel nuoto vale questo discorso e siamo andati a provare per la prima volta a nuotare due sport estremamente diversi che richiedono preparazioni personalizzate eppure ciò non rappresenta un problema per lorenzo che dice di amare le entrambe discipline e che soprattutto gli piace molto vincere basket e nuoto quale ti piace di più tutto lo sport tutto lo sport che è la cosa migliore si fatica di più a basket o a nuoto a nuoto hai vinto una medaglia di bronzo ai recenti campionati regionali è stato difficile no non è stato difficile era ad ora mi sono impegnato ok e adesso mi sa che c'è anche la convocazione per la nazionale di basket sì no vado a l'ora